adesso cosa volete fare per fermarmi cosa vogliamo fare per fermarti ora di sparo un bel proiettile allora figliati questo ma che cacchio sei stato distratto mi chiamo guarda che bella paratarte vaffanculo ci penso io peppe ah si imparate a fare i trick col carro che cacchio sto facendo minchia r2 più triangolo cerchio che cacchio sto facendo indietro ciao peppe ciao mela non è un buon momento oddio vabbè è andato tutto bene fortunatamente porca di quella miseria adesso è il tuo momento ma quei due la dietro sono vivi va secondo te va non ci sono fatti niente stanno benissimo minchia mia nonna sta messa meglio in ospedale anzi nella tomba perfetto finiamo questo combattimento ok adesso lo finisco subito premendo un pulsante minchia c'è la mira in me o cacchio adesso scendi scendi ok adesso faccio questo non ti permettere o cacchio minchia mi stai portando a firenze aia perfetto fatti sotto ok no no ti sei ho quasi sparato come godo no lasciami la mia pistola dammi la pistola non te la do o cacchio io ho data o cacchio no ma guarda mi ha lasciato il regalino di natale che carino perfetto adesso ci penseranno i miei caciutti e li i tuoi che cosa porca di quella miseria perfetto ora che sono tutti quanti impegnati ad essere arrivata è rimasto a me il ruolo di fermare tutti e c'è anche un piano mi basta premere questo pulsante per far esplodere tutta la città me la sveglia di modi che quello vuole fare un patatrack vuole fare le patate no non premere il pulso la smetti di fare michael jackson stavo dicendo non premere quel pulsante ah si e chi me lo impedisce minchia che figata io te lo impedisco ok ah si si me lo impedisci allora impedisci pure questo allora no 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 ho già detto no no invece si c'è più niente che potete fare ah ah oh cacchio che cacchio è successo l'ha colpito un pallone oh cacchio da dove cacchio è arrivato quel pallone ah aiuto aiuto un secondo sto ancora cadendo oh ciao c'è un piccione oh cacchio sono quasi arrivato a terra sono sopravvissuto sono caduto da 200 metri sono ancora vivo sono inarrestabile nessuno può uccidermi io sono immortale in realtà vabbè poteva andare molto peggio ti sei dimenticato il carro armato adesso te lo diamo esatto adesso te lo ridiamo che cosa state dicendo non poteva andare peggio di così in realtà il carro armato è inarrestabile lui no dove è lui dove cacchio è lui tu dove stavi dove stavo in una situazione di scremento per non dire di merda lui lui dov'è lui dov'è mi interessa da sapere lui dov'è è morto minchia l'avete ammazzato voi se ti dico che l'ha ammazzato un pallone ma in effetti che l'ha lanciato il pallone ragazzi scusate il ritardo si può sapere dove cacchio eravate diciamo che ci lo tutti e due abbiamo avuto un problema e quale questo problema passa che io segno dentro la porta di ciro subito tieni tieni no dove cacchio l'hai buttata che cacchio ne so io me ne vado va bello andiamo a prendere noi il pallone allora questo significa che che io sono un eroe che io ho salvato il culo a tutti che roberto salva sempre tutti minchia mi vado a drogare e adesso come facciamo a fermare le bestie non ti preoccupare ho sistemato già la questione nell'edificio in che senso avete fame io non sono commestibile signori e signore signori mostri cioè io non è che sono molto commestibile ma che cacchio questo è commestibile ficcatevola pure nel culo si può usare pure come supposto che cazzo è sta roba minchia sei furbo come quello che copia durante le verifiche si è stato un piacere combattere per voi cioè combattere con voi cioè grazie per avermi aiutato minchia che aiuto io me ne vado aspetta non c'è una ricompensa sì che c'è la ricompensa pepe diventeremo ricchi tieniti la tuta ma vaffanculo